Quieremi con distanza non lo dura pa sempre, un dia non se lo riunì. Quanto mi bebi lo bocheta fa sempre, non vuoi bocca a guarnì. Poi mandare le parole, 5 ore. Sì, mes, mes, ora. Ha un'altra coincidenza, però no, io ciao, attento. Attento per lo qual che non si vai conversare. E' la parola che ti hai la pieza qui, è la parola che non si vai tocare. E' il tema che non si tocare, ma sono nostre van papi, di mas obra. Nostre è un'opera di forma di un bocchio, però ora che non se vanno a conversare di un'opera teatral, che ti titola distanza. Alla con noi, ti hai un cara com'idea imaginabile, che ti hai parlato a Miracava, di un'altra presentazione qui nel corso, come da Ralf. però con Ralf abbiamo anche con Luan Forte di Holanda che abbiamo parlato con il nostro toccante di un'obra teatral bilinguale perché questo è un papeamento in combinazione con il ulandese quindi è interessante ma noi abbiamo ancora un toccante di Saki Ralf, Luan, benvenuti a noi grazie, grazie grazie, grazie Ralf, questo è un po' primavera noi conosciamo come scrittore, diclamare anche in un ambito artistico basta conoscere, secondo me basta conoscere a musica, non? ma è difficile da dire, sì chiaro, tu? sì, sì ora qui va bene con un'obra di stanza, a base di Kiko? sì, perché artisticamente è un po' perché è un po' di reattamento, è un po' di attuazione è un po' di attuazione, è un po' di attuazione, è un po' di attuazione è un po' di attuazione, sei è un po' di attuazione, è un po' di attuazione un po' di attuazione, è un po' di attuazione reperto al tutto il regto, dice metto che, basta conoscere un po' di attuazione magari qui, d posso conoscere un po' di attuazione? shown a altro. No qualcosa è inattito, quindi è come anche Whoa damage e frostfire hohésitez a vedere all'int accessed della stanza, in attuazione è sempre una cosa che mi chiede sempre con il latino. Ma ho detto che non mi chiedeva, ma non mi chiedeva anche in un paese, in Europa, come in Kosovo. Quindi non ci sono due a un'amore o un'amore o un'amore di un paese. Quindi noi stiamo pensando come si può creare la distanza, o che può creare la distanza, o che può creare la distanza o non. Il idioma, il coloro, il comandante. E' molto interessante, mi chiedeva se può creare la distanza o non. In città, in questo modo, quando si avrei chiusi a crescere la nuova. Ecco la domanda. È in qualche stanza. E' un progetto con il nostro lavoro. E' un po' di distanza. E' un po' di compagno! E' un po' di compagno. ma che mi ha sconso sempre più l'altro abbiamo avuto una buona scena con il nostro dolore, con il nostro costante con noi anche altri abbiamo avuto un pregiunto di altri ma questo è un tipo di luogo con noi di noi abbiamo avuto un tipo di luogo abbiamo avuto un buon assimile ma anche noi abbiamo avuto un buon abbiamo avuto un buon altro quindi per collegare non solo con le persone ma si è necessaria di compasione Grazie a tutti i nostri spettatori qui, al stesso tempo, come a parlare di Ralf, che ci sono molto interessanti. Luan, benvenuti ancora a noi. Sei qui speciale per la theatervoorstelling, o non? Klopt, benvenuti speciale per la theatervoorstelling. Ralf komt in Nederland, con la stessa stessa in Oktober. E' la exchange, la parola è universale. E' anche una università. Non si può fare in altri paesi, ma l'abbiamo. E' la distancia, la parola è universale. E' l'abbiamo molto spazzesco. Oh, buono! Che buono! Che buono! Luan. La conversazione. Distancia è un woord, in ogni lingua frans, distante, distante, anche in l'albanese, distante. E' un woord che molto spaziano in tutto il mondo. Iedereen lo conosce, non ho parlato di papiamento, ma la distancia è una distanza. Mmm, hm. Hoe liet jij de stage van afstand? Ralph heeft net uitgelegd dat verschillende elementen naar voren komen in de theatervoorstelling. Hoe zie jij dat? Jouw mening erover? Ik denk dat sinds 2020 de pandemie afstand natuurlijk een ander begrip, maar menselijke afstand. Je hebt afstand in taal, spiritueel, fysiek en e io penso che tutti abbiamo fatto di questo, ma è sempre di farcola di spazio. Quindi l'empathia è importante. Se io mi vergliore, mi vergliore, è magari meno di spazio. Certo. Puoi che vi racconta di una storia? Siamo solo di voi, o sanno più di persone? È solo di persone. Siamo solo di persone. e ci sono anche musica, ma anche più di attenzione. In realtà è molto comedi. Ma non solo. Noi, non vedo come comediante. Non sembrava un ragazzo. Ma ok, è il teatro. e sei a sali, sì. Oh, ok. In metacchiere sei a sali per il nostro band, per il nostro lasso. Quindi è qualcosa organicamente a sali. Ma le persone hanno bisogno di più leggera, quindi non è un problema. E quello che ha detto, non era l'intenzione di fare comodità. Sommi creare qualcosa, e poi meri che sia comodità. Grazie, sì. È così organico. Per fare come realità, sì. Sì sì, ovvero. Qui ci sono di fare più essentiali delle cose. E' in modo che abbiamo servito, è un modo da trattare e li per uscire. Sei perché io mi miro vedi un bello. Che mi miro vedi anche più meditato. Se invece è un bello, mi miro vedi anche più ritorno. Quindi c'è un bello che è crescita perché ha, io poi dobbiamoираare una molto要ra, non miro vedi un po' più di me. E ora, sì, non si prende più un bello. ma anche le differenze, ma non è un po' di più, ma non è un po' di più. Si, non lo so, non lo so. E per chi è questo punto di stagione? Per chi è il tuo progetto? Il progetto di gruppo, penso per il progetto. Siamo in Teatro Habai 23, 20, 30 e juni. Un'altra promozione. Siamo anche in due scolini. Siamo Albert Schweitzer e Rodolfo. Siamo anche perché pensi che sia per tutti gli altri, ma anche per le ragioni. Se pensi che sia più complexe, quindi anche con il tuo 14-jarito ragione o di loro. Siamo dictersi, ma non è un poesia. Non è un attacco di poesia. Si, non è un attacco di poesia. Non è un poesia. Non è un poesia. Non è molto. Da molto, da molto, da molto, così è un'integro di creatività. Abbiamo trovato un spazio per creare, quindi ogni persona si è rimasto da casa, lo scopo di creare qualcosa di unico, allora ci sono 3 racconti, non solo un sacco, ma diversi sacchi di un'altra. Ora, in questo caso, molto interessante, abbiamo visto anche un'altra opera, magari anche con un sobrino, un buon bambino, un teenager. Inoltre, non puoi comprare i carti, o come faccio? Non puoi mirare il lavoro qui? Sì, ho comprare i carti 25 minuti, puoi comprare la mente senza camminare, e anche la porta, ma preferibile per me. Certo. La porta è aperta la città. Il nostro comissario è in teatro Aula Habai. Poi ho chiesto di dove ci sono? Habai? Habai, ma ho chiesto di un teatro, è quasi anciano. Si, è un'attica. Un'attica molto buona, anche a me, è artista. Mi sono stai stai, ma ho chiesto di un'attica, ma ho chiesto di un'attica. Come si, come si, è un'attica, è un'attica, e un'attica, e un'attica. E un'attica, è un'attica, è un'attica, ma è un'attica, ma è un'attica, a me, è un'attica, è un'attica. Il nostro comissario e da 13 messaggi a noi. Per il nostro pollo in generale. Quali de tempo hai? È quasi un'attica, dentro di tutto l'attico. Non ma in spontaneo per noi, ma in松are l'attica, di musica. È quasi un'attica, di tutto lì, non? In Curaçao c'è un po' di più o' di più? In Curaçao c'è un po' di più, in Nese a probabilmente un po' di più. E magari dovremo tornare a Curaçao, ma non lo vediamo. Quindi abbiamo un po' di più in un theater, due in scola, in Nese a un po' di più in oktober. Ralfa, hai detto in Bacchia o Vuli? Sì, in Gnagini. ok la ricetta di te amo ti ho scusato un palazzo profondo mi chiamo di essere un'esitore qui ci siamo qui per te per noi per aver esperienza grazie e anche qui ci sono un'esitore che ci sono un'esitore che ci sono un'esitore per noi messe e da consiente sanusami riba differente tema e tópico alto distancia segura nota un dinamco abono per perdere che salga e opera agilopo per raiasso contesta di una differente pregunte banco abomers da questionavo messo o piccoli e che mandi a meditavo ving direita ving disfota bingari tabi che sopra e citato lo qualco nella primitiva il momento la tabla con nostra barra di astra che sas a di nostra propria tristezza che vende ving tranquilli vin sostenere bitcoin mirako por medio di arte no sporsana coração nataam e vende yahoo sacchi e tachia buyer né or right to be around e per ora c'è torpe ahabri età kumi samitari ocho na ehm teatr cutin din habai press vota baicom meta e grande la modulia chitava da quinta vienbanda vota ea tra tibili 5 florim pacarci buco comprare la dilanta ovbo comprare la porta da me vuoi essere un bini tutto per se noi appoggiare e ovunque l'arrake famo un pauso commerciale chiamato con nostro Batman si ma spavolo di mente